domenica e sabato anzi per dirla meglio sabato 8 aprile e domenica 9 aprile si svolge qui a santa marinella questa meravigliosa mostra molto originale contro vento ecco i pittori enzateti e ricchi siamo ancora in fase di allestimento perché a quest'ora con un tempo così bello la gente probabilmente sta ancora al mare quindi quest'idea geniale di fare una mostra in una località marina come questa ecco uno dei sostenitori della mostra angelo ferrara compago questa è l'altra parete dove si svolgerà il mio intervento questo è il manifesto che potete vedere con il con lo pseudonimo artistico ecco qua questo lo pseudonimo io sono mulla presto vi porto insieme a me anche al tavolo che presto verrà allestito anche con stuzzichini cose da bere questa è una postazione veramente originale come vedete ci sono anche delle reti che prendono spunto dal fatto che siamo appunto in una località marittima ecco ecco gli ulti le ultime cose questo è il tavolo ci sono addirittura delle magliette con i quadri benissimo per oggi è tutto buona mostra allora aspetta che vengo con te angelo devo prende tutto anza mi raccomando guardate la roba se ne vieni qua in una moda allora aspetta per me il come è in una moda in un'unizieta in un'unizieta